Ranking UEFA, l'Inter nella 10, agganciata alla Roma. Roma ha un passo dalle migliori 4 nel torneo dei sogni e con entrambi i piedi nella top 10 del ranking UEFA. Insomma, c'è di peggio che respirare l'aria profumatissima dell'elite del calcio continentale. E pensare che in Italia, complice quel 5 gradi posto inaspettato, l'atmosfera attorno ai nero azzurri appare decisamente più rarefatta. Numeri alla mano, quella di Simone Inzaghi e l'Inter più europea dai tempi d'oro di Jose Mourinho. Lo dimostra la nuova graduatoria che vede i nero azzurri di nuovo in una posizione di vertice grazie al cammino in questa Champions. Impreziosito dallo 0 a 2 in casa del Benfica nell'andata dei quarti di finale aggancio Lukaku e compagni hanno agganciato il decimo posto delle ranking guidato dal Manchester City di Guardiola davanti a Bayern Monaco e Chelsea, il real campione in Champions a 5 gradi. Raggiungendo la Roma che dal 2016 precedeva e staccava regolarmente i nero azzurri in graduatoria. Ora sono tre le italiane in top 10, con la Juve ottava e anche essa protagonista di un balzo in avanti grazie alla vittoria contro lo Sporting. Allegro e ora è appaiato al Barcellona. Tornando al cammino dell'Inter, in questa stagione sono 22 i punti raccolti. Nel 2019-20, l'anno della finale di Europa League persa contro il Siviglia con Conte in panchina. Furono 25. Per superare quel risultato a Simone basterà centrare la semifinale, si ottiene uno punto per ogni passaggio del turno. Per vincere un'altra gara, l'UEFA assegna due punti per ogni successo, le due cose potrebbero anche verificarsi contemporaneamente nella sfida di ritorno con i portoghesi a San Siro. Il totale interista fa 89, un numero che deriva dalla somma dei punti ottenuti nelle ultime 5 stagioni. Nel dettaglio, per il club, sono stati 15 nel 2018-19, 25 nel 2019-20, 9 nel 2020-21. 18 nel 2021-22 e, appunto, 22 grazie a questa cavalcata europea dopo 10 anni l'Inter è tornata tra le migliori 10 del ranking a un decennio esatto dall'ultima apparizione. Cioè dal 2012-13. Per capire la portata di questo balzo in avanti basta citare il punto di partenza del 2022-23. Cioè il 23 gradi posto. La scalata di Simone partirebbe in realtà dal primo momento in cui si è seduto su quella panchina che, nonostante tutto, non smette mai di scottare, a luglio del 2021 l'Inter era ventiseiesima. Posizione che oggi occupa il Lione, settima forza della Ligue 1. Oggi le squadre della Serie A in graduatoria UEFA sono 9. Cioè tutte quelle che hanno partecipato alle coppe negli ultimi 5 anni. E dopo Juve. Inter e Roma, più staccato troviamo il Napoli, ventesima con 80 punti. Seguono per l'Italia. Nell'ordine, Atalanta, ventottesima, e Milan, trentacinquesima. Anche i rossoneri hanno avuto una crescita notevolissima. 81 gradi posto nel 2019-20. 53 gradi nel 2020-21, 45 gradi un anno fa e oggi è un passo dalla top 30. La Lazio è quarantunesima. La Fiorentina 101esima, è ripartita da zero visto che non partecipava alle coppe europee dal 2016-17. Il Torino 106esima grazie ai 2, 5 punti dell'Europa League 2019-20. Virgola.